Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio amorestaurant. Oggi andremo a fare una base, una preparazione semplicissima, una crema di zucca, a differenza della vellutata che ha una parte grassa, la crema di zucca avrà la zucca più un altro ingrediente, normalmente si usa la patata per la tensare, molto semplice, brodo vegetale, cipolla, patata già bollita, zucca già pulita e tagliata per vedere come fare la savora nelle schede allegate, i grassi paulini di Stella che me l'hanno regalata, buonissima, sale, pepe, olio extravergine d'oliva taggiasco, quindi per prima cosa tagliamo la cipolla e prepariamo il fondo. Facciamo la cipolla a pezzi, poi scaldiamo dell'olio extravergine d'oliva taggiasco, mettiamo a soffriggere un po' la cipolla, poi aggiungiamo la zucca, la facciamo insaporire abbastanza bene e poi andiamo a mettere il brodo vegetale, aggiustiamo di sale e chiudiamo per 10 minuti e un quarto d'ora. Questo è il risultato, bella morbida, mettiamo la zucca nel bicchiere del frullatore, aggiungiamo la patata che ci serve per addensare e frulliamo il tutto. E questo è il risultato. Bene, la crema di zucca è pronta, bella, lucida, morbida, molto semplice, a differenza della bruttata come abbiamo visto io ho usato una patata bollita, nelle schede legate potete vedere come la uso io, vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea!